Bene, comunque una vittoria decisa e non si può dire che il bel momento della coccinella si allunga nonostante nel recupero sia arrivata la sconfitta con la Roma. Beh dai, qualche partita persa ci può stare, le stiamo vincendo tutte, stiamo giocando bene, stiamo penso andando alla grande per questo nostro primo anno, siamo arrivati alla Final Four e quindi penso che meglio di così non si può fare. Adesso finiamoci, fermiamo per lo stop natalizio, cercheremo di vincerle tutte e comunque di confermare il nostro posto terzo in classifica. Ecco, però prima della pausa in analizza ci sono ancora due impegni importanti, un recupero con il San Lorenzo fuori casa e sabato prossimo poi si chiuderà con la prima giornata del girone, cioè si comincerà con la prima del ritorno. Sì, ecco, ci mancano queste due partite per finire bene questo girone di andata, quindi daremo il massimo, ci studiamo partita per partita e poi insomma noi ce la mettiamo tutta. Si vive molta la giornata, nonostante che c'è quel bello obiettivo raggiunto, che è la Final Four, sarà importante questa pausa natalizia per gli altri, non per voi che vi dovreste preparare veramente alla grande. Beh diciamo che era un obiettivo che non ci aspettavamo proprio, abbiamo comunque lottato affinché lo potessimo avere, ci abbiamo creduto tutte insieme e quindi poi l'abbiamo raggiunto e quindi per noi è già un bel traguardo. Poi ovviamente si va lì, se la gioca fino alla fine non lasceremo niente a nessuno e quindi poi insomma vinca la migliore, ecco questo. Grazie a tutti.